Salve amici del Centrometrio Italiano. Evoluzione metro tra fine gennaio e inizio febbraio che vedrà ancora l'anticiclone protagonista, ma dovrebbe non mancare ancora qualche passaggio instabile. Vasto campo di alta pressione tra Atlantico ed Europa porterà tempo asciutto nei prossimi giorni in Italia, ma anche tante nebbie e nubi basse. Tra venerdì e sabato tutti i principali modelli confermano il transito di una blanda struttura depressionaria sul Mediterraneo centrale. Questa porterà qualche precipitazione soprattutto al centro-sud, con neve a quote medio-bassi. Inizio di febbraio che dovrebbe vedere ancora un robusto anticiclone sui settori occidentali del continente e aria fredda in discesa su quelli orientali. In Italia, come al solito, contesa tra i due, che probabilmente vedrà una fase fredda, ma con precipitazione limitata a settori adriatici e sud. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate e tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.